Buongiorno, sono Rudy Lazzarin, c'è il mio socio Paolo Affolti presente qui, ringrazio tutti, è un'emozione anche perché sono il primo della lista, è sempre difficile, fino a tre giorni fa quando mi hanno confermato la partecipazione avevo i capelli, però continuiamo. Flow Drone nasce da un'esigenza, ho fatto il pilota di droni per un breve periodo, è stato difficilissimo trovare lavoro, ho fatto qualche intervento video all'interno degli immobili, poi ho avuto un'idea, ho trovato il mio socio e ha abbracciato l'idea di mettere online la piattaforma dell'incrocio tra domande ed offerta con una serie di servizi. Quindi con la necessità avevamo anche uno scopo, dare al professionista, volevamo dare appunto il marketplace dei droni, un settore in fortissima ascesa tra produttori mondiali e domanda dall'altra parte, quindi il professionista molto velocemente avrà la possibilità di registrarsi, decidere dove lavorare autonomamente, avere la possibilità diciamo di sfruttare un'agenda, quindi impostare quello che è l'agenda lavorativa settimanale anche con gli orari e decidere la propria tariffa. A quel punto il primo dronista disponibile in base alla richiesta, il più economico con rating più alto ed il più veloce, perché ci saranno tre richieste impostate a distanza una dall'altra, quindi se il primo dronista impegnato non avrà la possibilità di accettare diciamo quello che è la richiesta dall'altra parte, passerà al secondo e al terzo, quindi sarà ingaggiato. L'opportunità, attualmente in Italia ci sono circa 46 mila dronisti col patentino ENAC, perché per volare ci vogliono due requisiti, patentino ENAC e assicurazione, assicurazione RCA e assicurazione volendo ma quasi sicuramente sul corpo drone. Questi sono un po' i dati, i video degli interni, c'è stata una duplicazione di quello che è l'utilizzo, per l'edilizia più di 236%, l'agricoltura iniziano gli usi per annaffiare via dicendo, consegne Amazon e Google iniziano le consegne proprio in questi giorni ufficialmente, post italiane quasi sicuramente si prepara a farlo e ci sono 46 tipi di attività suddivese in 6 macro aree. In Italia, questo è un dato del 2011, ci sono circa un milione e 300 mila fotografi che sicuramente si adegueranno con le nuove tecnologie, quindi riprese e fotografie aeree. Diciamo che termine forte l'Airbnb, però nella realtà potrebbe essere questo. Il lavoro del dronista può dare circa dai 3.000 ai 4.500 euro mensili per circa 168 interventi anni. Noi guadagneremo una percentuale dall'incrocio della domanda d'offerta. Fonti dei ricavi, 20% dalla tariffa applicata dal dronista, pollizza RC auto e corpo drone che si suddividono in base al peso del drone, perché ci sono droni sotto i 250 euro e 250 grammi e droni che pesano anche 30-35 kg. Avremo la possibilità della vendita di prodotti, prodotti sviluppati diciamo e fatti dai dronisti tra filmati e fotografie. Il drone Friday è una speciale funzionalità che permette all'ADV, quindi a chi fa pubblicità, di non essere cancellato e di non essere persa. La vendita di corsi di formazione, aggiornamenti e i gaming. Questo è quello che può essere un investimento finanziario, un prospetto dei ricavi con una partecipazione di 200 dronisti in un anno per di 168 interventi di media all'anno. Grazie, sviluppo dei costi. Finito, grazie.